Bello essere freelance ma invece noi siamo un po' più positivi e quindi adesso viene Roberto Sorrentino a spiegarci che freelance è bello se... Sì, freelance è bello se facciamo attenzione ad alcuni dettagli, freelance è bello se ci poniamo delle domande. Le mie domande sono state, che vi faccio qui innanzitutto, sono quelle che io avrei voluto che mi facessero qualche tempo fa ed è per esempio quanti di voi, se potete alzare il getto e mettere la mano, quanti di voi mettono in discussione il vostro modo di lavorare, quello che state facendo in questo momento perché, non so, magari non siete soddisfatti. E quanti di voi invece hanno dubbi sui prossimi passi che devono realizzare rispetto al migliorare il... Ok, quello che io avrei voluto e quello che credo che in questi casi serva, almeno è servito per me, è avere una pila. La pila è necessaria se ci trovassimo in questo spazio molto grande che non conosciamo completamente al buio, senza luna piena fuori, e luci spente di notte. Nel mio caso la pila, questo è il pavimento di Pillarufro, no, meraviglia. La pila nel mio caso è stato il coaching, per me il coaching è stato importante nella misura in cui mi ha dato una direzione. Senza pila ho fatto dei tentativi, ho cominciato a letteralmente brancolare nel buio, e la prima cosa che ho fatto è dedicarmi ad esempio al 100% alla formazione, perché io mi ritienavo inadeguato, il mio impostore mi consigliava così. Così facendo, è bello parlare con l'allarme in sottofondo, ma poi si smette. Così facendo però in realtà ho dedicato la mia attenzione a una cosa che non aveva realmente bisogno di tutta questa mia attenzione. Non sto dicendo che non c'è bisogno della formazione, quello che dico però è che in realtà la formazione io in questo momento la uso in maniera diversa, la distillo nei momenti in cui ho bisogno nel corso delle attività lavorative, e poi la utilizzo immediatamente, quando sono molto fortunato, come è stato successo ora di recente, la utilizzo nelle attività, quando faccio attività con i clienti. Freelance è bello se riusciamo a scegliere il nostro percorso professionale, ad aggiustarlo nel corso del tempo, a migliorarlo nel corso del tempo. Nel mio caso per esempio Freelance ha voluto dire fare degli esperimenti, provare, lasciare da parte delle cose che non funzionavano bene, ad esempio la collaborazione al 50% con due aziende, entrambe volevano il 100% di me e io diventavo matto, non ha funzionato, ho scartato. Così come ha voluto dire lavorare con quelle aziende che erano allineate con i miei valori. Così ho potuto bilanciare aspirazioni, ma anche portare la pagnotta, perché se no la portiamo a casa poi l'anno dopo non si riesce a fare nulla e dobbiamo abbandonare i nostri meravigliosi progetti. E di volta in volta sempre più alzare l'asticella e arrivare a quelle aspirazioni che tanto desideravo a quel modo di lavorare. Freelance vuol dire soldi, non lo fate, questa cosa non è vera, non cresce alla piantinata. Però se non stiamo attenti, il secondo anno rimaneva un fottuto, letteralmente. Io avevo un buffer importante e ho potuto pagare le tasse di quest'anno che erano equivalenti a tutto quello che guadagnavo negli anni precedenti, quindi ho pagato veramente tanto, però poi sopra il secondo anno si può sopravvivere, soprattutto se siete nel regime ordinario come me. Il secondo anno può arrivare veramente un ammazzato, lo dice anche la mia amica a lavorare all'agenzia delle entrate, voi che lavorate in freelance siete dei cretini perché arrivate al secondo anno impreparati, proprio letteralmente così. Freelance vuol dire anche avere un buon partner, questo è un membro per me che devo scegliermi un commercialista migliore. L'altro giorno io ho chiesto, mi mandi gentilmente agli F24 in PDF così faccio copia e incolla del codicino scemo dall'F24 all'internet banking. Lui mi dice, sì te l'ho mandato, erano delle immagini dentro ai PDF, non c'è dialogo. E se lui non è così, allora forse è meglio un commercialista digitale, come sembra Alessandro Pomponi si vende in questa maniera, grazie a Freelance Camp ho avuto modo di contattarlo. Essere in freelance vuol dire anche spazio di lavoro. Questo è quando ho dovuto smontare tutto e ho riconfigurato la stanza. Innanzitutto ho il super privilegio, tra i tanti che ho, anche di avere una stanza dedicata, eppure solo di recente ho cominciato a sfruttarla. E quindi ho investito innanzitutto su una sedia, perché sulla sedia di plastica si lavora malissimo, ve lo posso dire. Poi ho investito su una scrivenia sollevabile, che è stata una roba fantastica, lavorare in piedi ogni tanto è una gran cosa. E poi mi sono preso questo tavolo sul subito, pagato 400 euro, però è di una bellezza stratosferica, ora la stanza è una figata. Però, insomma, spendere con intelligenza, attrezzarsi lo spazio, migliorarlo, man mano regalarsi qualcosa. Essere freelance vuol dire prendere da community come questa, dalle vostre community dei professionisti, ma vuol dire anche restituire. Questo per me è un impegno importante. Mi sono girato senza microfono, scusami, non lo faccio più. Quindi vuol dire anche restituire. Questo è un impegno importante che io credo di dover compiere. Freelance vuol dire anche benessere fisico. Nel momento in cui ho cominciato a lavorare da casa, mi sei liberato una quantità di tempo importante. A questo punto poi ho cominciato a fare, prima delle passeggiate fuori, poi ho cominciato a correre, poi ho fatto la DGTN, ho fatto 5 km, poi ho cominciato con loro, con FixFit, e faccio tre sessioni a settimana, è una figata, io mi ci trovo benissimo. Lui, tatuatissimo, non potrebbe mai essere mio amico, però questa cosa per me è molto divertente, oggi la devo fare assolutamente, ed mi aiuta a sentirmi meglio nella sostanza. Freelance però vuol dire anche occhio alla dispensa, perché è piena di cose dolci, sono goloso, e quindi invece di attaccarmi alla dispensa, oggi mi attacco al cassetto delle verdure. Freelance, infine, è crescita personale. Roberto, che una settimana fa era qui con le bambine a fare i guanti da paura per Halloween, è lo stesso Roberto oggi, che è un professionista soddisfatto. Ci sono ancora delle cose da migliorare, e essere freelance mi permette di continuare a mettere in discussione il mio percorso, migliorare, fare delle cose che, diciamo, prima pensavo di non poter fare, ma mi metto in discussione, esco dalla mia zona di comfort, trovo nuovi spazi per imparare nuove cose. Ad esempio la mia forma di freelance è quella di essere collaboratore unico, sono di fatto dipendente di una società che mi dà il 90% del lavoro. È una società con cui lavoro benissimo, siamo allineati sui valori, e via dicendo. E poi un 10% è il mio kindergarten, dove posso sperimentare, ho un bel contatto con il CEO, posso fare ricerca sui utenti, e via dicendo. Però avevo sempre escluso, in questo modo, di fare il lavoro commerciale, di andare a vendere design, di andare a vendere il mio lavoro, perché così mi veniva meglio, perché ritengo di non essere bravo a fare il lavoro commerciale. Proprio ieri mi è stato proposto, ma perché non vai a vendere te design? E io mi sono detto, ma perché no? Perché non farlo adesso, oggi che ho una situazione che mi permette di costruire on top su quello che ho già, e quindi ecco, come quel pomodoro bitorsoluto, freelance vi permette di crescere e fare le cose secondo i vostri tempi come le preferite. Questo sono io, sono Roberto Sorrentino, mi occupo di design, non disegno sedie, non disegno cusciere, in realtà mi occupo di esperienze, quelle esperienze che facciamo tutti noi quando abbiamo un'esperienza fisica, un'esperienza digitale, e può essere per esempio l'apertura dell'internet banking, utilizzare l'internet banking e trovare sempre gli stessi problemi che non vi permettono di fare determinate cose, o per esempio commettete sempre gli stessi errori, esperienze positive hanno un impatto positivo sul business, esperienze drammatiche hanno esperienze a volte anche tragiche per il business. Quindi io analizzo problemi, intervisto le persone per trovare, per comprendere i loro bisogni, ipoteso delle risoluzioni e poi le testo ancora. Se mi volete aggiungere su LinkedIn, questi sono i miei contatti. Grazie.